te cosa filmi con questa? le nostre boiate in moto, certo! ti firma tutto? si è! ma pensa! il nostro corso gratuito www.mesmerism.info 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 Il nostro corso gratuito è www.mesmerism.info 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 Oh, you touch my ta-la-la Mmm, my ding-ding-dong Oh, you touch my ta-la-la Oh, you touch my ta-la-la Oh, you touch my ta-la-la Ehmano, c'è, è andato. Sì, per forza che buona la fada. Strada di Roccavi. Te cosa filmi con questa? Le nostre boiate in moto. Certo. Ti filma tutta? Sì. In caso magari anche gli incidenti. Beh certo. No, incidenti e altri pezzi di merda che ti c'entrano e tu ci hai filmato. E tu vedi con questa? Eh no, la butto. La butto.